L'arte per la beneficenza. È stata molto apprezzata la mostra fotografica allestita sulla banchina del porto di Giovinazzo. Si chiama Vita di mare. Il titolo, che è stato dato alla mostra, racconta ogni momento di vita legato al mare e alla piccola città tra le perle del nord barese affacciata sul Mediterraneo. 30 in tutto le foto esposte e ricavato ottenuto dalla loro vendita è stato devoluto in beneficenza dall'associazione Statitù di Cellammare, che si occupa di integrare la disabilità con servizi gratuiti verso i propri soci, attraverso il lavoro sul territorio, nelle scuole e nelle parrocchie. Si tratta della prima edizione di questa particolare mostra fotografica che l'associazione Culturali di Giovinazzo ha lanciato nella sua città. Tanti fotografi amatoriali e professionisti che hanno risposto alla call lanciata sui social.